Sia Barletta che Juve Stabia cercavano i primi tre punti della stagione, ma alla fine a sputarla sono stati i campani. Sconfitta evitabile, quella rimediata nel secondo match consecutivo tra le Muramiche, ad onor del vero, dopo il Pisa ci si aspettava di più anche dal team del tecnico Braglia. L'improvviso svantaggio, scaturito da questo erroraccio di tesoniero, ha decisamente spezzato le gambe ai biancorossi. Sianimani cogetta subito nella mischia le ultime arrivate in casa Barletta, Anselmier Raicic parte dalla panchina, il terzino Massiero nella Juve Stabia, al debutto Bacogu in avanti e Molinari al centro della difesa, quest'ultimo vicino al club di Via Vittorio Veneto nel mercato da poco andato in archivio. Undicesimo minuto, Carbonaro crea, Molinari sventa la minaccia. Al ventesimo, retropassaggio di Lucioni per tesoniero che svirgola clamorosamente il Puttiglia a bocca asciutta, seguono gli applausi dei supporters biancorossi che incoraggiano il portierino ex potenza. Barletta a zero, Juve Stabia a uno. Ventiseiesimo, Corona vicino al due a zero, nulla di fatto. Il Barretta ci prova al trentaseiesimo, Bellomo spedisce fuori la sfera due minuti più tardi e Carbonaro a sbagliare a pochi passi da Fumagalli. Minuto trentanove, guardate cos'è in grado di fare Rajcic, estremo ospite, ci mette una pezza. Poco dopo, l'occasione del pari con Lucioni e la traversa a negargli il gol. La ripresa si apre con i tentativi di Bellomo prima. Carbonaro poi. Ottavo, lo russo mette Giumba a Cogu, Monaco di Tivoli, arbitraggio a quanto discutibile il suo, assegna il penalty e Corona trasforma impeccabilmente. E' il due a zero della Juve Stabia. Al diciassettesimo, Rajcic è steso in aria, ma per il direttore di gara si può proseguire. Ventesimo, Simoncelli tira, Fumagalli para. Al trentanovesimo, i gialloblù sfiorano il tris con Albadoro. Finisce qui Barletta-Juve Stabia. Nonostante il KO rimediato, il Puttilli si stringe attorno alla squadra, una squadra che ha solo bisogno di amalgamarsi e di trovare i giusti ingranaggi. Per il resto è indiscutibile il fatto che al Barletta serva un attaccante di peso senza nulla togliere ad Infantino. Il volenteroso attaccante di Tolve è solo in avanti. Intanto domenica il Barletta sarà impegnato in trasferta a Nocerina prima del derbissimo interno contro il Foggia. No, sinceramente tutta la settimana ci stiamo preparando per questa partita perché la prestazione di domenica ci aveva lasciato molto, ma molto amaro in bocca. Oggi finalmente abbiamo visto una squadra di carattere, una squadra che ha voluto la vittoria, anche se purtroppo è venuto il primo gol da un errore del portiere che ci ha un po' aperto la strada. Però mi sembra che la squadra era stata messa in campo in una certa maniera, aveva carattere, aveva grinta, aveva voglia di ottenere questo risultato che è venuto abbastanza rotondo perché il 2-0 ci ha confermato tutto il lavoro che abbiamo fatto in questa settimana. Sì, anch'io non ho mai visto un gol preso in quella maniera lì, però evidentemente ci può stare. Diciamo che un infortunio di percorso non ci voleva perché noi non ci possiamo permettere di fare questi infortuni qui. Perché non abbiamo una squadra che può ribaltare la situazione o una squadra che può fare tanti gol. Facciamo fatica a fare gol e questo lo sapevamo, quindi partire con quell'handicap è stata una mazzata dura, anche perché abbiamo creato due o tre palle gol, una traversa, colpito una traversa, ma indipendentemente dal gioco creato e fatto non ci sta girando bene. Comunque rimane il fatto che certamente non è che abbiamo fatto una grossa prestazione, il 2-0 è stata testimonianza perché anche il rigore che abbiamo subito è una nostra ingenuità. Purtroppo sono ingenuità che dovremmo pagare spesso, credo, sperando che qualcosa migliori e qualcosa cambi. Quando giochi con tanti under è probabile ed è facile che possano accadere queste cose qui. Purtroppo è così, non è che devi mettere in preventivo queste cose qui. Ecco perché credo che vada tutelato un po' il gruppo, vada un po' aggiustato, formato, plasmato, perché fino a questo momento diventa difficile anche lavorare per l'allenatore perché ogni 2-3 giorni arriva qualcuno. Poi arrivano anche in condizioni non buone perché c'è gente che ancora non ha i 90 minuti nelle gambe e quindi devi stare attento anche a come fare i cambi, bisogna stare attenti a tante cose. Purtroppo stiamo pagando il fatto di essere partiti tardi e non solo quello. Adesso vediamo un po' questa settimana di sistemare un po' le cose. Tenete conto che c'è anche la Coppa Italia e quindi ci tocca giocare anche in Coppa. La domenica, mercoledì scorso, eravamo in 11 a giocare. Oggi eravamo due ragazze da Beretti, più un altro che non stava tanto bene, in panchina, per fare la panchina. Havamo piccoli problemi o grossi problemi che un organico di C1 non dovrebbe resistere.